Allora, ancora una volta, benvenuti alla Pappo World 2022, tutti pronti per la partenza? 3, 2, 1, via! E buona camminata a tutti! Castellamonte è animata oggi per la Bubble Walk? Assolutamente sì, è un'ennesima attività di Natale nella città di Castellamonte, questa volta grazie all'associazione Un Dono per Castellamonte, che dopo il successo della camminarte ha deciso di replicare anche in versione invernale organizzando la Bubble Walk. Non solo Un Dono per Castellamonte, dobbiamo assolutamente ringraziare anche altre associazioni del territorio, tra cui la Proloco, che si è resa disponibile a fare il classico vin brulele, il te caldo e a portare dei dolci, la panetteria-pasticceria Goretti, che farà un punto di ristoro in Piazza Zucca, e allo stesso modo il Bar Cabosse, che farà un altro punto di ristoro con la cioccolata calda per i corridori in Via Costantino Nigra. Speriamo ci sia una grossa partecipazione di pubblico, al momento le persone sono già tante presenti nella Rotonda Antonegliana per la partenza, e sicuramente sarà un'altra occasione sia di sport sia di sociale, perché come al solito tutto il ricavato verrà poi donato ad altre associazioni benefiche del territorio. Il percorso della camminata non competitiva è per le vie delle città? Assolutamente sì, c'è una parte all'interno del capoluogo, mentre invece poi come al solito una parte più esterna nelle campagne, oltre la stazione ferroviaria. Se vogliamo, come per camminarte, anche questa è un'occasione per conoscere Castellamonte e il suo patrimonio, pur non andando nel dettaglio del patrimonio. Assolutamente sì, questa sarà una grande opportunità per conoscere Castellamonte, e speriamo anche per ravvivarlo un pochino nell'ultimo weekend prima di Natale, quindi invitiamo tutti quanti a venirci a trovare, a fare una visita ai commercianti castellamontesi, a partecipare alla Bubble Walk e a fare acquisti per Natale da noi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.